Eccolo qua, in questo momento via Fratelli Bandiera, ecco l'effetto del passaggio di un camion. Ci sono due mezzi pesanti, in questo momento sono freddo, perché ci ha chiamato? Che problema c'è? Per questo problema qua, vedete? Siete? Giorno, notte, noi viviamo solo, la domenica, domenica i camion non circolano e noi stiamo tranquilli. Un incubo giorno e notte lungo una delle arterie principali di Marghera. Danni, vibrazioni e fastidi alle abitazioni che si affacciano su via Fratelli Bandiera. Negli anni qui, addirittura nel 2005, a decine i residenti delle palazzine avevano firmato la petizione per chiedere lo spostamento del traffico pesante. E noi chiediamo se è possibile farli girare, prima che loro vengano di qua, via Cruto e vanno poi nel porto, via dell'elettricità. In sostanza, bypassando questo tratto, l'incrocio con via lavoratore, sempre sconnesso, quindi più ruoroso e anche se risistemato nel giro di poche ore, torna come prima. Tra i problemi, per esempio, di queste vibrazioni che sono caduti anche dei camion. Sì, è possibile, ho dovuto fare completamente tutto il coperto del condominio, completamente. Abbiamo tolto i travi e abbiamo fatto il coperto nuovo senza più i coppi, perché i coppi con le vibrazioni scendevano sempre giù. Doppi vetri alle finestre, ma non bastano. Quelle firme restano a futura memoria simulacro di un problema tutt'ora irrisolto, così come l'appello al sindaco. Doppi vetri alle finestre, ma non bastano le finestre, ma non bastano le finestre, ma non bastano le finestre. Grazie. Grazie.